Carmine Schiavone, che è stato un organico del clan dei Casalesi, se non fra i fondatori, poi è stato collaboratore di giustizia, in un'intervista disse che il clan dei Casalesi è in realtà un'organizzazione mafiosa, è la mafia siciliana nel Casertano. Lei è d'accordo? Beh, dipende cosa intendiamo per mafia. Ecco, c'è la definizione del codice penale italiano che sostanzialmente dice che se tu hai capacità di intimidire, in base alla tua reputazione, fare tutta una serie di attività, sei una mafia. La mafia siciliana, dal punto di vista analitico, è organizzata in famiglie diverse che sono coordinate dalla Commissione. Quindi, se lui intendeva quello, è possibile che questa alleanza tra vari gruppi assomigliasse ad una mafia. Secondo me, la definizione vera di mafia è che sono una struttura che aspira a governare il territorio e inserirsi soprattutto nell'economia di mercato, quando lo Stato non è in grado di fare lui quel lavoro. E quindi, quando vogliono risolvere dispute quotidiane tra persone, determinare l'accesso ai mercati. Ecco, questo secondo me è l'essenza vera della mafia. E quindi probabilmente, probabilmente aveva ragione. Ecco, non è che dire che sei una mafia ti nobilita, anzi. Quindi possiamo dire che le organizzazioni criminali mafiose si installano in un territorio laddove il territorio è abbandonato dallo Stato? Esatto, esatto. Questa è l'essenza. E quello che cerco di spiegare in questo libro, che ho appena pubblicato, è proprio quello. Che quando lo Stato non gestisce, governa e organizza i fenomeni sociali, le trasformazioni sociali, altri elementi in questi territori possono entrare e fare da sostituto. Professore Varese, lei ha analizzato come criminologo tutta una serie di organizzazioni mafiose internazionali, però cosa vede il mafioso allo specchio? Il mafioso quando si guarda allo specchio, chi vede? Cosa vede? Ecco, questa è una domanda che mi faccio nel libro, appunto. Cosa vede il mafioso quando si guarda allo specchio? La domanda che cerco di darmi nel libro e che mi hanno dato poi i mafiosi che ho incontrato, soprattutto in Russia, è che vedono una persona che cerca di governare un territorio. Quindi si credono di essere come dei politici, come dei re, appunto. Che sono ovviamente re che non hanno, non c'è modo di interferire nelle loro decisioni, quindi re non democratici. Ma è questo che vedono, credono di vedere quando si guardano allo specchio. E invece poi le donne. Noi siamo a Casal di Principe, qui per tanto tempo il clan dei Casalesi, il clan della Camorra, Casertana, ha dominato. E nel tempo si è capito anche un ruolo particolare delle donne, che non erano semplicemente sottomesse, ma che ad un certo punto sono diventate poi quelle che comandavano e che reggevano e che reggono in parte ancora l'organizzazione criminale del clan dei Casalesi. Qual è il ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali? Ecco, nelle organizzazioni che studio nel libro, cioè la mafia giapponese di Hong Kong, la mafia russa, la mafia italiana e la mafia siciliana, c'è un rito di iniziazione per entrare nell'organizzazione, quindi diversamente un po' dalla Camorra. E le donne sono escluse formalmente dal rito. Però anche in queste mafie tradizionali il ruolo delle donne è cresciuto, soprattutto quando gli uomini vengono arrestati e spesso fanno il tre d'unione. La cosa che cerco di dire nel libro è però che c'è dell'altro. C'è dell'altro e vi sono diversi casi in cui il rapporto tra uomo e donna diventa un rapporto d'amore, no? Tra marito e moglie. E questo rapporto d'amore scardina un po' l'omertà che il mafioso uomo deve mantenere nei confronti dell'organizzazione. Quindi cerco di argomentare nel libro che il sentimento d'amore erode in un qualche modo l'organizzazione. E quindi più ci si ama seriamente, meno si può essere veramente mafiosi. Vicino Casal di Principe c'è Castelvolturno. Degli studi hanno dimostrato anche la presenza della mafia nigeriana arrivata a Castelvolturno. Lei ha avuto modo di studiare questo fenomeno? Sì, ci sono diverse indagini anche a Palermo sulla cosiddetta mafia nigeriana. E quello che ho studiato un po' si chiamano Black Axe, che hanno quindi anche loro dei riti, che mi sembra vengono quasi tutti dalla stessa piccola zona della Nigeria. Ecco, bisogna stare attenti ovviamente a non enfatizzare la presenza di questa mafia, non a fare del panico, ecco, perché comunque sono fenomeni inferiori rispetto a quelli italiani. Certamente la droga che distribuisce questa mafia viene venduta da organizzazioni italiane, quindi sono l'anello di una catena molto lunga, ecco, non sono certo l'inizio. Però sì, certamente esistono anche questi fenomeni e credo che la tesi del libro sia cercare di dire che fenomeni di tipo paramafioso possono esistere in qualunque contesto, ecco. Nel caso della mafia nigeriana bisogna stare attenti a non strumentalizzare, però in funzione diciamo razzista, questo fenomeno criminale. Dunque lei parla di enfatizzazione. C'è il rischio di avere una percezione maggiore del fenomeno? Cioè il fenomeno che è creduto più grande di quanto in realtà non sia? Sì, certamente, certamente. E questo c'è una cassa di risonanza che viene fatta dai media, sia quelli tipo social media che anche da altri media. Quindi sì, bisogna stare molto attenti. Ad esempio gli studi scientifici fatti in Italia sulla criminalità straniera, sull'immigrazione straniera, dimostra che gli stranieri commettono meno reati degli italiani, gli stranieri regolari. E quindi c'è sicuramente un tentativo di natura politica di enfatizzare questo tipo di microcriminalità che per quanto esista bisogna avere la testa, i nervi saldi, ecco, e non enfatizzarlo. E' molto pericoloso perché poi questo porta ad altre misure che poi creano ulteriore criminalità, illegalità.